Venerdì 23, eccoci qua, andiamo a vedere Eccolo qua, 23 Oggi è l'antivigilia Ricordatevi gli ultimi regali Gli ultimi pranzi aziendali, le ultime cene aziendali Bella Sopra non c'è niente È un simbolo semplicemente di un biscione Ed è, ah, l'omnipollo Sei l'asse, Imperial Stout With Ethiopian Coffee and Vanilla Beans Imperial Stout Al 19%, no, all'11 11 gradi Beh, la confezione non c'è da dire che È molto, molto, molto bella